Furto sacrilego a Gauro. Brutta sorpresa per gli abitanti di Gauro, frazione di Monte Corvino Rovella, quando si sono resi conto del gesto sacrilego di alcuni malviventi, che durante la notte sono entrati in chiesa ed hanno portato via tutto l'oro del santo. Come spesso succede, i fedeli portano come ex voto al Santissimo Salvatore e Sant'Andrea oggetti preziosi, anelli, collane, tutti oggetti di grande valore. La sgradita ed inaspettata scoperta è stata fatta dal parrogo Don Egidio Genovesi, che in mattinata si è reso conto della sgradita visita, notando gli evidenti segni dello scasso. Il prelato si è immediatamente rivolto alla caserma dei carabinieri per sporgere denuncia contro i gnoti. Immediate sono scattate le indagini.